ciao benvenuti a una nuova puntata del canale di youtube di branding escolar sono michel rossi poche settimane fa vi ho potuto dimostrare che il mio anglese è più che bruttino attraverso l'intervista che ho realizzato a richard gerber e oggi mi vedono mi vedo nella circostanza di dimostrarvi che neanche il mio italiano è buono ma siccome l'argomento su cui ho parlato con paolo pugni forse spero di sì vi risulterà interessante ve lo lascio lo stesso chi è paolo pugni paolo pugni è un noto podcaster italiano che ho avuto la fortuna di conoscere un tempo fa e che mi ha chiesto di farmi questa questa intervista su argomenti che conoscete bene relazionati con il branding di scuole vi prometto che non farò più esperimenti la prossima puntata non sarà in francese nemmeno in tedesco vi lascio con la intervista a presto ecco come anticipato nell'introduzione di questa puntata sono con un ospite molto particolare perché il primo ospite non italiano che è qui sui microfoni di vendere valore buongiorno michel buongiorno allora michel rossi che si occupa di marketing in un mondo molto particolare e si occupa dalla catalogna più ancora che dalla spagna dico bene corretto bene e gli chiediamo innanzitutto di raccontarsi di presentarsi in modo tale che poi andiamo a parlare del suo libro e di soprattutto della sua professione che è estremamente intrigante bene sono michel rossi sono catalano di barcellona o sono stato per moltissimi anni professore non saprei dire in italiano se è la terza media il liceo ragazzi tra i 15 e 18 anni da due anni non lo faccio più non perché non mi piacesse che per me era una passione ma perché da 20 anni ho fatto questo lavoro insieme a un altro che sono anche graphic designer che gestire il brand di scuole ho cominciato con il gruppo scolastico dove lavoravo e poi mano a mano andavo anche io conoscendo più cose di questo settore ho cominciato a fare alcune formazioni a scuole ho scritto un libro perché avevo un blog e con tutti gli articoli che avevo nel blog ho scritto il primo libro che si chiama la tua scuola la tua scuola la tua scuola una gran marca si può leggere in catalano e in spagnolo e da quel momento ho cominciato a dedicarmi soprattutto a questo a gestire i brand di scuole l'anno scorso pubblicato mezzo alla pandemia il libro è uscito il giorno prima del lockdown qui da noi pertanto è stato anche lui chiuso in un magazzino di Santillana fino a settembre mezzo anno come il vino matura matura e allora questo secondo libro si chiama il secreto del marketing educativo e lo traduco i docenti sono il brand della scuola ok perfetto hai già toccato alcuni argomenti che sono estremamente importanti hai anche degli audio in cui racconti queste cose sì sì prima ho cominciato con il podcast prima ho cominciato a ascoltare podcast per praticare italiano perché io non ho vissuto mai in Italia l'ho imparato all'università moltissimi anni fa e sempre ho avuto un po' il bisogno di mantenerlo almeno e allora ho cominciato a ascoltare podcast italiani su marketing ho cominciato a ascoltare Marco Montemagno, Alessio Beltrami, Giulio Gaudiano, Paolo Pugni e poi mi sono anche io buttato a fare il mio e da due anni ho cominciato un podcast con il titolo branding escolar cioè branding di scuole sì 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 molto molto interessante allora innanzitutto vediamo di partire dalle similitudini tra quello che è il branding di una scuola e quello che è il branding di una qualunque azienda mi sembra di capire che il punto chiave che tu l'hai già detto parlando dei professori è che alla fine della fiera quello che conta sono le persone sono le persone e il brand delle persone che diventa in qualche modo il brand dell'impresa così come accade regolarmente certo non per magari i grandi marchi dove forse la persona conta meno a livello di brand personale intendo dire ma per la tipica impresa italiana che poi non è molto dissimile dall'impresa spagnola dall'impresa catalana dove le persone fanno realmente la differenza quindi puntare sulla forza dei professori è questo che racconti sì questo l'ho scoperto anch'io vedendo cose per esempio nel mondo del marketing di scuole perché c'è il bisogno di fare marketing soprattutto dal calo della natalità la crisi e altri motivi allora il marketing si è molto centrato nel digital no? allora un marketing di le reti sociali il sito la landing page che io per si deve fare anche io dico che lo si deve fare però vedendo che le scuole soprattutto io lo chiamo la regola 131 da ogni cinque bambini che vengono a una scuola questo attraverso i CRM di scuole l'ho chiesto a tantissime scuole se non succedeva lo stesso più o meno generale da ogni cinque bambini uno viene perché deve venire potremmo dire che se non viene pensi che stai facendo alcuna cosa che non va bene perché per esempio se c'è la sorella verrà sicurissimo no? se i genitori sono tutti e due antichi allunni della scuola e vivono accanto alla scuola se non viene il bambino succede alcuna cosa con questo bisogna fare poco marketing no? poi tre vengono attraverso il passaparola il che è molto importante perché sono un 60% no? vengono attraverso genitori, famiglie, altri ragazzi se sono più grandi no? che sono contenti della scuola dove stanno in quel momento no? pertanto ne parlano bene e poi tra 15 e 20 vengono attraverso altri mezzi che adesso logicamente internet ha un rilievo speciale no? attraverso le redi sociali, la ricerca a google eccetera eccetera il marketing scolastico si è molto centrato in questo 20% è interessante ma se invece quello che si fa è procurare soprattutto l'altro 60% che cresca allora per me mi pare una cosa molto elementare no? e allora questo come si fa? si fa attraverso la soddisfazione delle famiglie e la soddisfazione delle famiglie da chi dipende? logicamente soprattutto dai docenti no? i professori hanno un ruolo unico in questo punto no? ma quello che penso io è che bisogna fare le cose in un altro modo più anche più professionale dal punto di vista di quello che sarebbe il servizio ai clienti no? del servizio cliente bisogna fare in un modo proporzionale io ho scoperto attraverso la lettura di libri di servizio cliente di aziende quello tipico che c'è molto da imparare c'è molto da imparare e bisogna quando lo dico a docenti restano un po' sorpresi perché non suona molto bene parlare in questi termini ma la parola cliente per esempio che nel mondo scolastico cliente è quella persona a cui mi devo pertanto i bambini i genitori sono clienti perché no? anche perché glielo dico così mi piace usare questa parola perché così posso parlare di un'altra parola che è il cliente interno che è quello più importante i compagni perché il modo come i dirigenti della scuola il rapporto che hanno tra i dirigenti della scuola e i professori e le professoresse tra di loro determina assolutamente come lo faranno con i bambini le bambine e le famiglie punto molto interessante molto interessante hai già toccato una valanga di temi che richiederebbero approfondimenti mi ho preso furiosamente appunti per farti delle domande poi quindi andiamo un po' per ordine allora quindi tu mi stai dicendo uno dei punti chiave tra quelli che hai messo sul tappeto è quello dell'importanza di far crescere la reputazione il brand appunto dei docenti che evidentemente non è soltanto fumo ma è sostanza in modo tale poi da dare soddisfazione al cliente che è una parola che anch'io sposo completamente qui c'è una cattiva fama forse della parola cliente della parola vendita ma non ne parliamo adesso che va rivalutata quindi come faccio a vedere i docenti come faccio a vedere gli studenti e le famiglie come clienti sono studenti sì ma non c'è niente di male nel chiamarlo cliente quindi torneremo semmai su questo ma deve crescere quindi l'importanza del professore allora ti faccio una domanda provocatoria ma non si ribelliano i professori che già ti dicono io già devo preparare la lezione devo avere a che fare con i ragazzi adesso mi devo mettere qui anche a occuparmi del mio brand ma perché? guarda è interessante la domanda perché in realtà la mia esperienza è che invece quando ho avuto l'opportunità e lo faccio spesso di parlare con docenti su questo ruolo che hanno speciale l'importanza che ha e soprattutto quando io ho dato formazione di per esempio come gestire scusa come si chiama come gestire una lamentela sì sì perfetto una cosa che nessuno ci insegna a farlo e invece è importantissimo perché qui la reputazione della scuola la chiave sono queste lamentele perché quando non succede niente la gente la gente è più o meno soddisfatta non molto quando succedono cose e vengono soluzionate allora quando realmente sono molto contento e la reputazione prima la reputazione propria del docente perché il docente la reputazione dipende di molte cose basicamente che siano professionisti di qualità la sintonia con la scuola e con i compagni questo le famiglie lo vedono quando uno è un grandissimo docente ma nessuna sintonia con gli altri no non funziona non ha reputazione che sappiano ascoltare su questo argomento non parlo perché ne sai molto di più e che sappiano fare le domande opportune e alla fine questo che dicevamo adesso che sappiano soluzionare i problemi della gente che rispondono bene a queste situazioni ecco e allora scusa mi avevi fatto una domanda e dico che quando io spiego questo e gli mostro per esempio come si gestisce una situazione qualsiasi di una lamentela come si gestisce con professionalità e allora sono contentissimi perché ne avevano bisogno sì 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 molto chiaro quindi diciamo che quello che sono gli argomenti che tu hai citato adesso le competenze chiamiamole così sono quelle che in azienda vengono definite soft skill no quindi fondamentalmente tutta una serie di competenze relative alla relazione alla comunicazione all'interazione alla formazione del team chiamiamolo così in termini proprio aziendale che diventano fondamentali quando si parla di brand si parla anche di qualcosa che è rivolto verso l'esterno quindi una notorietà che magari attira adesso noi abbiamo due esempi tra i tanti e ne cito solo due che tra l'altro hanno lo stesso nome si chiamano tutte e due Alessandro uno è Alessandro Barbero che è professore di storia molto famoso autore di podcast lo ascolto ogni tanto anche a lui per esempio è grandissimo ha una grande fama proprio come comunicatore di materie prettamente scolastiche parla di scuola parla di storia quindi materie storie un altro che si chiama sempre Alessandro che è da Venia scrittore oltre che professore l'ho letto e anche lui fa molta comunicazione verso l'esterno e in qualche modo entrambi ognuno a modo suo attraggono poi verso la propria scuola è chiaro che se io nella mia scuola ho un nome di questo genere è più facile che le persone siano attratte verso la mia scuola ecco è pensabile anche un'azione di questo genere quindi andare a creare dell'influencer utilizziamo che qui è un termine molto di moda quindi far emergere dei docenti che siano capaci di raccontare all'esterno la loro competenza come fa appunto Barbero con i suoi podcast o altro tu lo vedi come una strada che può andare a lavorare sul marketing scolastico? sì ma ovviamente non è l'unica e quello che bisogna fare è che ogni professore deve pensare deve gestire il proprio brand nel senso di decidere perché forse qualcuno preferisce centrarsi perché lo dico così anche quando parlo di personal branding sono influencer più di nessuno con i bambini i ragazzi le ragazze che hanno questa influenza è molto più importante molto più importante ma se sono gente capace di gestire una rete sociale di apprezzare a tanta gente è fantastico perché per una scuola io faccio il paragone con una squadra di calcio adesso che il Barcellona purtroppo non gioca come prima si vede perché il dipartimento di marketing del Barcellona ha un problema grandissimo perché non dipende da loro lo dico così anche quando parlo con la gente di marketing di scuola il marketing ve lo fanno i professori perché se tu hai un Messi che sarebbe un Alessandro Barbiero e allora è molto facile che gli altri impareranno da lui parliamo proprio di Barcellona e di Messi a questo punto visto che hai usato questo esempio colgo l'altro aspetto perché giustamente tu dici dobbiamo investire sui nostri docenti perché questo attrae la persona allo stadio vengono a vedere giocare Messi non vengono a vedere giocare il Barcellona il Barcellona si è la società la squadra ma come diceva un mio carissimo amico americano esperto di vendite di marketing diceva le relazioni tra aziende sono in fin dei conti relazioni tra persone che rappresentano quelle aziende sono le persone al centro esattamente quindi anche qui io vado a vedere il giocatore che gioca che poi è dentro la squadra e il resto però visto che se ne parla in questo periodo Messi può anche andare via allora io ho investito tanto su un professore gli ho fatto fare anche una carriera personale un brand personale l'ho aiutato a spingere questo e poi lui va in un'altra scuola e si porta dietro la fama è un'obiezione che tu in che modo questa lamentela nella giustizia questo esempio nell'azienda investire in formazione e poi se ne vanno è molto peggio non investire perché restino fantastico fantastico perfetto siamo rimbalzati la pallina in maniera perfetta meravigliosa senti un altro elemento quindi chiarisco un po' questo punto metto un punto a capo su questo argomento per entrare in un altro investire sulla crescita di reputazione dei propri docenti sia all'interno dell'azienda perché questo crea azienda quindi scuola senso di appartenenza crea quel desiderio di andare a dire agli altri guardate che la mia scuola è forte venite da me perché sono veramente in gamba e anche verso l'esterno per attrarre anche quel 20% che tu hai definito poi nel mondo digitale che avviene anche attraverso attraverso questi strumenti ecco parlando proprio di questa attrazione e di questo lavoro di passaparola uno dei criteri di marketing che si applica è anche quello della segmentazione del mercato uno degli errori che le aziende fanno quando gli chiedi ma chi sono i tuoi clienti e l'imprenditore ti dice ma un po' tutti no se sono tutti non è nessuno tu devi dirmi sono quelli alti 1,70 che portano gli occhiali e che sono mancini allora ne parliamo ma non puoi dirmi tutti allora lo stesso discorso vale per le scuole soprattutto nel mondo delle scuole paritarie qui in Italia o comunque delle scuole che non sono statali che evidentemente hanno un tipo di approccio differente in un mercato che si va stringendo usiamo anche quei termini termini di marketing tu parlavi prima degli aspetti demografici e sono veramente una tragedia perché se io lo vedo con un criterio di vendita e di marketing è un mercato che si restringe e quindi devo andare a parlare al mio mercato al mio segmento cosa ne dici? sì per esempio stavo facendo una formazione ai dirigenti di una scuola di Barcellona nel centro della città dove è così difficile perché pensare chi è il mio pubblico una città grande che a fin dei conti tu puoi venire in 20 minuti vieni da un'altra città cioè è molto difficile allora questa segmentazione diventa difficile tu parti da quelli che hai perché siccome vengono soprattutto da questa raccomandazione pensando in Seth Godin usa il termine il mercato minimo viabile si dice viabile in italiano mercato minimo viabile sì sì quello che è percorribile sì pertanto se tu ti centri in questo mercato è più facile arrivare a altra gente che invece spari dappertutto allora questo mercato sono gli amici i collegamenti con i genitori della scuola cioè il tuo mercato è molto vicino a te dico marketing di prossimità ma non nel senso geografico ma nel senso sociale è un marketing di prossimità sociale il tuo mercato minimo lo hai a un a un click no cioè che sono le amicizie i conoscenti della gente che già hai nella scuola allora se ti vuoi focalizzare su questo pubblico arriverai molto più facilmente a segmentare poi perché tu partirai per fare per esempio il buyer personas della gente che già hai nella scuola tu hai diversi tipi di famiglie e allora questo è il tuo buyer personas che si può moltiplicare poi con le loro conoscenze e tra l'altro è un buyer persona che dipende molto anche dall'ordine di scuola che hai spesso e volentieri ci sono questi centri scolastici che hanno più ordini di scuola ma devono fare questa segmentazione per singolo ordine perché per esempio sulle fasce più piccole diciamo così quelle dove la prossimità diventa un elemento significativo avrai delle buyer personas diverse tu prima parlavi della scuola al centro di Barcellona dove si arriva rapidamente anche dall'esterno allora per quello che per noi è un liceo una scuola superiore un ragazzino di 14-15 anni può arrivare in treno da qualunque parte in 20 minuti essere in centro di Barcellona se la mamma deve portare il bambino all'asilo nido o alle elementari probabilmente devi andare a vedere nel bacino d'utenza di una passeggiata di un quarto d'ora al massimo e non di un viaggio in macchina o in treno quindi devi tener conto anche delle caratteristiche nelle aziende si rive del prodotto che vendi il prodotto scuola di base è diverso del prodotto liceo e quindi le buyer persona sono differenti sì ma ordinariamente le scuole che hanno tutto il percorso nella stessa scuola direi dai 0 ai 18 anni allora si devono focalizzare soprattutto con i bambini più piccoli perché poi se gli fidelitzi se restano in una scuola gli hai fino ai 18 anni no? Stavo pensando una cosa che in questo senso mi è venuta in mente di quello che abbiamo parlato prima no? riferente all'importanza del team il team perché hai detto che Messi la gente va a vedere Messi sì ma i fan no i fan del Barcellona sono del Barcellona e poi quello che bisogna perché è molto importante avere un team senso di appartenenza certo certo senso di appartenenza è molto importante molto importante è molto importante che ci sia unità in questa squadra di docenti questa unità verrà non da una missione una visione nel senso di un testo che tu metti nella parete poi nessuno impara ma nel condividere un sogno cioè bisogna arrivare a un sogno che sia una cosa che si capisca facilmente che ognuno è un sogno che deve essere condiviso perché un sogno imposto è un incubo no? no? si dice così allora bisogna bisogna questo pertanto importantissimo l'attitudine dei dirigenti no? rispetto ai docenti no? sì sì ecco questo è un punto importante è un punto molto importante che vorrei sottolineare e vorrei riprendere in un altro termine questo senso di appartenenza che vuol dire condividere un sogno perché poi in fin dei conti forse questo condividere un sogno è anche quello che fa scatena il passaparola no? 3 dell'131 che dicevi tu prima probabilmente è la condivisione del sogno che permette ai genitori di aver voglia di andare a dire ad altri venite nella mia scuola allora sicuramente questo è importante ottenerlo attraverso la forza degli insegnanti come dicevi tu ma visto che siamo in un'epoca anche digitale in un'epoca anche tecnologica è importante anche raccontarlo c'è un proverbio qui in Italia che dice non basta saper fare bisogna anche far sapere allora come pensi che si possa comunicare cosa possiamo comunicare per creare senso di appartenenza tra i genitori che sono già nella scuola e spronarli quindi a fare passaparola io sto riflettendo nel il marketing dei contenuti il content marketing che si focalizza anche succede un po' che lo stesso molto questo uno per 20% che mi hai detto adesso ma bisognerebbe pensare un marketing dei contenuti centrato nella gente che già hai che sono quelli che poi devono spiegare la scuola perché se tu vuoi che i docenti comunicano questo sogno non basta che lo vivano bisogna anche dargli argomenti ma non nel senso di una formazione che devono imparare no 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 ma devi pensare come come si fa la comunicazione alle famiglie che sono nella scuola in modo che sia una comunicazione con il suo proprio funnel in questo senso di fidelizzazione alla scuola no? non saprei dire molto di più perché è una cosa su cui penso che bisognerebbe forse qualcuno l'ha fatto già io posso portarti l'esperienza delle scuole qua di Milano quelle dove hanno studiato i nostri figli e che rappresentano per noi un punto di riferimento molto importante una delle iniziative che stanno facendo è l'aperitivo del venerdì quindi una diretta facebook rivolta prevalentemente ai genitori della scuola che si distingue da quella che è stata fatta durante il lockdown durante il lockdown erano delle dirette con un certo spessore quindi con invitati nomi importanti quindi grandi personaggi che potevano essere in qualche modo collegati alla scuola quindi che raccontavano delle loro esperienze abbiamo avuto anche l'arcivescovo di Milano per dire quindi figure di questo genere e che avevano anche più tempo dato che comunque eravamo tutti a casa e quindi non si poteva fare altro che stare a casa quello che è stato rilanciato adesso in autunno invece non che siano persone meno importanti e sono meno note meno famose diciamo così ma altrettanto importanti sono soprattutto genitori della scuola che hanno una passione da raccontare e quindi che in mezz'ora il tempo di un aperitivo raccontano e condividono con altri genitori la loro passione c'è stato un signore che è esperto di ombre cinesi che quindi ha raccontato le ombre cinesi ha fatto un piccolo show insieme alla figlia ce n'è un altro che ha raccontato di board game come si ritrova quali sono i board game del momento come si possono coinvolgere i bambini per i giochi in famiglia poi sì abbiamo la fortuna di avere anche qualche persona a scuola un po' più nota c'è stato proprio l'ultima puntata con il direttore di una testata dei telegiornali Sky che ha raccontato della sua passione per lo sport adesso ci sarà un poeta che racconta le cose ma quindi sono genitori che raccontano quello che piace fare loro con l'idea di creare questo senso di appartenenza proprio condividendo delle passioni come lo vedi un'iniziativa del genere ti sembra sì penso che è molto interessante perché quello che si deve fare è questo perché tu all'inizio beh penso una cosa che è importante quando vengono attraverso altri genitori tu cominci già un po' più avanti perché sono hanno già amici nella scuola hanno forse hanno anche una condivisione nel modo di vedere le cose perché sono amici sono conoscenti che invece se uno viene attraverso il sito web è un'altra cosa in un altro conto allora cominci da questo ma poi è importante che queste amicizie dentro della scuola questo rapporto che lo fa fa che diventi diverso che non sto parlando un po' come come un cacciatore nella conferenza stampa no? no no ma va benissimo si capisce si capisce perfettamente senti ti faccio un'ultima domanda hai parlato di marketing dei contenuti che effettivamente è una strategia per andare a prendere quel 20% esterno no? quindi adesso abbiamo parlato di contenuti rivolti ai genitori della scuola per creare il passaparola il marketing dei contenuti rivolti verso il mondo esterno allora vorrei la tua esperienza perché tu hai molta esperienza su questo se io penso a pensiamo anche noi due come professionisti no? è facile immaginare dei contenuti questo podcast è un contenuto io racconto ai miei ascoltatori attraverso la tua esperienza come sia possibile immaginare una strategia di vendita tutto sommato no? che è basata anche sui contenuti ma il mio contenuto è raccontare come si vende meglio il tuo contenuto con branding scolare il podcast il libro e il resto è come andare a promuovere una scuola perfetto il contenuto di una scuola cosa potrebbe essere? sì adesso ci sono alcune scuole che stanno per esempio collaboro con una scuola che sta organizzando un blog con articoli di temi educativi no? di educazione per esempio come gestire l'adolescenza no? per età lo stanno sviluppando adesso per esempio questo avere un blog che poi è l'inizio del funnel no? ma offrendo formazione per esempio mi è ricordato anche questo esempio che è anche dell'instituzione che è un webinare i webinare cominciati nei mesi del lockdown ma poi continuano a fare alcuni webinare ogni tanto che vengono che vengono tutti messi in un sito e sono webinare aperti sono aperti non soltanto sono aperti i genitori delle loro scuole sono aperti a tutti questo è un buon inizio di questo funnel ma sempre con questa visione di quindi raccontare elementi collegati con i valori della scuola l'educazione e poi magari anche la chimica per dire come Barbero racconta la storia però diciamo che tendenzialmente mettere in luce quelli che sono i propri gioielli con eleganza senza strafare senza ma non è anche nasconderli perché è corretto raccontare anche questi perché purtroppo molte scuole quello che fanno soltanto è mettere foto nell'instagram così non si fa nessun funnel no assolutamente no assolutamente no senti un'ultima cosa veramente a parte che poi ti chiederò quando esce in italiano il tuo libro non ho già nessun diritto sulle traduzioni del libro perché grazie a Dio la la dirittrice Santigliana che forse sia la più importante nel mondo scolastico in Spagna con differenza ha tutti i diritti e ho perso i diritti sulle traduzioni però allora insisti perché traducano in italiano cioè noi vogliamo il libro in italiano quindi guarda l'ho presentato in un podcast in Italia quindi a questo punto devi pubblicarlo in italiano perché sono tante persone che lo vogliono pensa che ho difficoltà anche che arrivi a America dove parlano spagnolo tantissimi paesi che mi chiedono come possono fare per avere il libro e non so che risposta dargli perché purtroppo non è stato pubblicato in digitale soltanto cartaceo per il momento sì sì senti Clubhouse novità del momento ci siamo trovati anche lì quindi nonostante entrambi abbiamo i capelli grigi però siamo giovani anche in queste cose qui di spirito eh sì sì tu lo vedi anche quello a parte che vabbè bisogna esplorare le novità per capire come sono ma tu lo vedi anche quello come una possibilità di azione per una scuola per andare a contattare ripeto magari non gli esterni ma forse anche quelli ma soprattutto andare a creare questi comunità comunità con i propri attuali clienti diciamoli così i propri attuali clienti in soltanto 24 ore nella rete io penso di sì perché le possibilità che dà organizzare in questo il moderatore avrà un ruolo importante ma si possono fare cose con molta immaginazione quello che è importante è vedere se la gente c'è dentro lì per esempio perché a me succede per esempio nel mondo scolastico io per esempio ho un canale di telegram ma poca gente poca gente perché bisogna avere il pubblico potenziale perché se la gente non ha telegram tu puoi avere un canale fantastico è vuoto lo vedremo lo vedremo ma io lo dico anche per il podcast perché penso per quanto mi pare che in Italia è più sviluppato adesso il podcast perché da noi almeno nel mondo scolastico c'è poca gente e allora costa un poco sempre sento dire no no adesso il podcast sarà molto ma da da quattro anni che sento dire che il podcast sarà più importante devo dire da noi si sta crescendo molto ci sono cifre interessate ma anche soltanto per dire tu parlavi di Giulio Gaudiano prima lui sai che organizza il festival del podcasting tutti gli anni credo che sia arrivato alla quinta edizione siamo passati dalla prima che era esclusivamente in streaming ci saranno state un centinaio di persone che si sono collegate all'ultima che ahimè è andata in streaming ma non per ragioni di presenza fisica mancante ma per ragioni di lockdown dove c'erano più di un migliaio di persone forse anche di più un paio di migliaia di persone che si sono alternate nelle varie giornate quindi abbiamo aumentato di grandezza di notevoli grandezze le presenze quindi sicuramente importante però ecco credo che il messaggio che tu ci dica è che le scuole devono imparare le scuole come le aziende perché poi alla fine le mettiamo dentro quel cartello di imprese che dicono abbiamo sempre fatto così no? quindi devo invece accettare la possibilità di sperimentare nella sperimentazione magari si intraprendono delle strade e poi si torna indietro non è la mia strada no? giustamente come dicevi tu bisogna capire dov'è il mio pubblico certo che se poi non ci arrivo o ci arriva qualcuno prima di me la bandierina l'ha messo qualcun altro allora preferisco andare a mettere la bandierina e poi magari dimenticarmela lì perché tanto in quella parte lì non ci andrà nessuno piuttosto che arrivare per ultimo con la mia bandierina in mano quando oramai non c'è più spazio per metterla perché tutti gli altri l'hanno messa prima di me quindi sperimentare con proporzionalità e aspettare vedere se funziona se non funziona lo lasci stare e fai un'altra cosa no? però provare sono d'accordo perfetto senti va bene che tutti i tuoi programmi sono in spagnolo ma siccome bene o male gli italiani un po' ci si capisce io ricordo una volta che ero in Spagna tanto tempo fa e a un certo punto stavo chiedendo spiegazioni a una signora una vigilessa direi monitalia quindi una guardia non so come come si dice in spagnolo cominciamo a capire e le chiedevo questa informazione io parlavo in italiano lei al primo momento mi guardava strano e ho chiesto parla francese no non parlo francese parla inglese no non parlo inglese gli ho detto beh parlo italiano lei mi dice ma se intendiamo se intendiamo alla fine ci si capisce lo stesso magari le parole non sono le stesse però ci capiamo ci capiamo allora quindi si può capire dove ti trovano quindi hai detto un canale telegram che si chiama tutto ho prima un sito che è brandingscolar.com che è mia casa da lì si può trovare tutto ma poi ho anche un canale telegram brandingscolar se lo sfondo è bianco è in spagnolo se è giallo è in catalano lo dico perché è sempre nelle due lingue tutte e due le rete sociali beh cercando a google no brandingscolar è un michel rossi michel rossi che scriviamo come si scrive perché qui è diverso è michel con la q rossi con la y alla fine con la y perché i miei avi erano corsi e hanno cambiato il cognome perché non diventasse perché non si vede italiano è così infatti senti michel grazie mille è stata una chiaccarata piacevolissima e gradevolissima io ti ringrazio tantissimo buona giornata buona giornata e un saluto anche da tutti gli ascoltatori grazie dio